grazie mille roberto per la prima parte sempre interessante inizio con una premessa per favore non credete tutto alla cieca se qualcosa vi tocca prima di cambiare stravolgere la vita approfondite ricercate convincetevi voi stessi di propria mano perché oggi ci sono ci sono persone che portano informazione raccontano semplicemente il sentito dire si aspettano che tutto il mondo cambia solo per il sentito dire io vi invito cortesemente a esaminare penso che ognuno anche a un sensore una percezione per sentire distinguere quello che sente se lo convince oppure no ecco lo scopo un pochettino di questo discorso è che tutti quanti non solo diventiamo dei pensatori dei liberi pensatori attivi che pensiamo riflettiamo su quello che vediamo che ci viene incontro ma anche che diventiamo persone attive nel senso che facciamo qualcosa come ha detto roberto che dal pensare dal sapere arriva anche un'azione la presentazione vorrei farla in quattro blocchi inizialmente vorrei parlare di intrecci di interesse una parola molto gentile dopo le darò ancora un accento poi parlerò del tema tutto smart in cui vedremo smartphone smart home smart city farò una parte la terza su smart human il transumanesimo tema poco sentito poco parlato discusso e concluderò brevissimamente con uno sguardo dalla bibbia io sono cristiano quindi porterò uno spunto dalla bibbia probabilmente chi chi segue altri altri libri o altri credi troverà comunque una parallela perché ho ho visto sentito che è una cosa molto diffusa in diversi credi e un pochettino lo scopo del discorso è anche di vedere da dove arriva questo progresso 5g tutto il mondo smart e anche dove ci porta perché nella parte transumanesimo in particolare si vede un po quali possono essere gli obiettivi di questo progresso di questo sviluppo pongo una prima domanda che diversi si chiedono e ci chiedono intorno al 5g ma scusa adesso c'era da così tanti anni la telefonia mobile le antenne i cellulari con 2 3 4 5g arriva adesso perché tutto sto ambaradan perché tutto questo trambusto cosa c'è che cambia di così importante che ad un tratto la popolazione si oppone a quasi ogni antenna come è possibile le risposte sono diverse io ne cito tre apre le porte come ha detto roberto all'internet delle cose lo approfondiamo ancora questo cos'è l'internet delle cose e questo insieme porta con sé la possibilità di immenso controllo di diffusione di dati diciamo raccolta di dati e inoltre si aggiunge alle frequenze esistenti cioè le frequenze che sono già in uso ora rimangono e si aggiungono quelle del 5g quindi ci sono ancora più frequenze dopo vedremo perché questo è un problema inoltre già detto da roberto offre la copertura totale anche con satelliti i primi grossi problemi inizio parlando di un un esperto di radiazioni lui era vediamo se ce l'ho con me è stato per tanti anni un esperto per la royal navy cioè l'esercito britannico adesso lo dovrei frugare fuori comunque barry trauer dice ogni frequenza ha i suoi effetti specifici sugli esseri viventi e lui ha studiato ha lavorato con le microonde nell'esercito con le armi a microonde e ha detto con con le con 700 diverse gamme di frequenze possiamo provocare precisamente specificamente legato a una frequenza determinati disturbi malattie problemi e quindi più frequenze combiniamo dice in questo volantino mi sa che è anche esposto sul tavolo più frequenze combiniamo più sono ignoti gli effetti biologici nel senso questa frequenza porta questo disturbo quella frequenza porta quel disturbo ma insieme cosa fanno queste due frequenze portano semplicemente quello e quel disturbo o altro oggi abbiamo una marea di frequenze che si sovrappongono oltre a quelle della telefonia mobile grazie roberto è molto interessante si trova anche in internet se cercate barry trauer vedete il video penso che c'è in inglese in tedesco in cui dice queste cose è molto interessante e preoccupante l'elettrosensibilità qualcuno dirà beh io non sono elettrosensibile in svizzera abbiamo non ricordo esattamente le percentuali le dette prima da 5 a 10 per cento certi stimano addirittura al 20 per cento di persone elettrosensibili fra cui molti che lo sono e non lo sanno molti hanno sintomi e non sanno perché non sanno la causa o questa cosa nessun'idea no da dove viene e questa varia da persona a persona nel senso una persona magari sviluppa prima dei sintomi o è prima sensibile a dipendenza della diciamo siamo tutti un po diversi no l'esposizione in interrotta favorisce l'elettrosensibilità ovvero elettrosensibili si diventa una persona sana non elettrosensibile esposta estremamente o esageratamente diciamo alle radiazioni sviluppa l'elettrosensibilità è una malattia che si può sviluppare che si può per così dire prendere e ovviamente è un problema se con il 5g arriva la copertura totale un elettrosensibile o addirittura iper elettrosensibile un iper elettrosensibile non solo ha dei disturbi ha dei problemi causati dalle onde elettromagnetiche ma non li sopporta più cioè non ci può stare deve sottrarsi ai campi elettromagnetici come fai a sottrarti c'è ovunque vai nel bunker ora puoi andare nella foresta magari da qualche parte e sottrarti se arriva dai satelliti se le strade sono tutte tappezzate dove vai non c'è più uno spazio questo è un veramente un grosso problema ne vedremo ancora dopo da più vicino e ora alcuni si chiederanno ma è possibile che in uno stato come la svizzera sia così diffusa una tecnologia così pericolosa cioè sta in piedi la svizzera diciamo vai a un paio di chilometri orari oltre 50 e zac multa è possibile che ci sia una tecnologia così pericolosa e che nessuno la fermi che lo stato non intervenga ci si può stupire dire no non è non è veramente sicura qualcuno dirà sarà uno scandalo sarebbe uno scandalo è interessante che i responsabili che cosa dicono responsabili dicono non so qualcuno ha già sentito cosa cosa che dicono come difesa se se vengono accusati è pericoloso fa male qual è la risposta che dà per esempio il vice presidente dell'ufa dell'ufficio per l'ambiente è nelle norme è tutto tutto rispetto alle leggi le leggi permettono quello che stiamo facendo non c'è da preoccuparsi e questo è un po un uno scudo perché diciamo è come dire fare il cecchino serial killer viene legalizzato e quindi adesso lo posso fare quindi non c'è problema è legale un problema c'è anche se un crimine viene legalizzato approfondiamo un pochettino il tema di questa furbizia smart che hanno fatto loro dicono tutto a posto nessuno morirà di caldo lo dico io in queste parole perché le norme ci proteggono dal surriscaldamento cioè se io telefono c'è una norma che mi protegge dal fatto che il telefonino mi cuocia mi frigga l'orecchio no chi ha mai toccato una patata bollente cos'è la prima reazione che fai la rimetti lino magari frughi nella cenere e in un tratto c'è ancora un puntino bollente togli la mano no serve una norma per proteggerci dal calore che inganno è questo ed è interessante che oggi dicono così che è tutto a norma perché c'è un brevetto swisscom adesso non so se riesco a farvelo vedere al volo dovrei ingrandirlo un po non si vede un granché mi vedere se riesco al volo no eh posso ingrandire così sì allora chi è il detentore di questo brevetto un brevetto del 2003 e qui purtroppo va giusto a capo ma è la swisscom ag che ha fatto questo brevetto di cosa si tratta è un brevetto per risolvere un certo problema brevetto si intitola riduzione dell'elettrosmog in reti locali wireless cioè il wifi che abbiamo in casa produce elettrosmog questo brevetto per quanto io sappio mai introdotto mai utilizzato serve per ridurre l'elettrosmog in casa come cosa leggiamo in questo brevetto l'influenza dell'elettrosmog sul corpo umano è un problema noto come va avanti il rischio del danno alla salute attraverso l'elettrosmog e quindi eh stato compreso meglio come risultato di recenti eh eh approfonditi studi come va avanti quando per esempio la frase dopo quella evidenziata quando per esempio il corpo umano le cellule del sangue umano vengono irradiate con campi elettromagnetici è stato dimostrato un chiaro danno al materiale eh genetico e ci sono stati eh chiari indicatori scusate lo traduco così al volo chiari indicatori di aumentato rischio di cancro questo da dove arriva citano di eh qui lo studio dell'università di Tel Aviv qui ecco non approfondisco più di tanto però hanno un brevetto per un proprio prodotto mai commercializzato per ridurre questo problema danni al materiale genetico rischio aumentato di cancro confermato da studi che oggi negano non ci sono studi che provano che è nocivo questo brevetto si trova in internet non è un materiale segreto che noi siamo ci siamo infiltrati nei loro uffici a rubare o che abbiamo prodotto da soli è un brevetto che si trova online ognuno lo può vedere quindi cosa possiamo dire io direi bugiardi come siamo arrivati a questo enorme perché oggi è legale irradiare con una tecnologia che danneggia il materiale genetico e ha un aumentato rischio di cancro facciamo una breve lezione di storia per tornare indietro al alla formazione di questa norma introduzione dell'effetto termico lo chiamo così questa protezione da dal surriscaldamento del nostro corpo commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti è un ente internazionale internazionale quindi sopra agli stati sopra alle nazioni per proteggere dalle radiazioni non ionizzanti ci chiederemo magari proteggere chi o cosa dalle radiazioni non ionizzanti beh in ogni caso nel 91 c'è stato uno studio del bundesamt ufficio federale quello tedesco per le radiazioni tradotto letteralmente che cosa ha fatto questo studio ha dimostrato un influsso sull'emissione di calcio delle cellule cosa significa questo è il principio del cancro questo era un grosso problema per l'industria della telefonia mobile perché cosa avevano pronto avevano pronto il 2 g oggi siamo al 5 g avevano pronto il 2 g da introdurre da portare da commercializzare e cosa ha fatto l'industria in risposta a questo studio ha detto vabbè facciamo una commissione internazionale in fondo è semplicemente una società privata dall'industria e che cosa hanno fatto hanno inventato questo principio termico era il 92 e così hanno permesso l'introduzione del 2 g nel 96 questo era già pronto preso in germania in nuova zelanda il governo ha dato l'incarico all'università la lincoln university e lì il professor nail cherry ha esaminato questi valori limite tedeschi e li ha bocciati per la nuova zelanda che cosa ha detto detto ha fatto un rapporto di 200 pagine trovabile in tedesco in inglese e dice i valori limite tedeschi hanno gravi lacune hanno errori tendenziosità omissioni e falsificazioni inter e intenzionali infrangerebbero la protezione sanitaria richiesta dal resource management act questa è una legge neozelandese che garantisce la protezione della popolazione non delle radiazioni come in germania della popolazione dunque è una cosa già nota da parecchio tempo che questi valori limite sono un fake interessante questa pubblicità che abbiamo fotografato e chi si appoggia a questi valori limite io dico promulga fake news qua c'è un giornale che si fa pubblicità che è senza fake news alcuni dettagli sull'icnirp che cos'è l'icnirp è una società privata già detto è fondata dall'industria quindi chi mette in tasca i soldi ha in mano questo ente questa questo questa associazione l'associazione è chiusa un circolo chiuso sceglie da sola i propri membri quindi non c'è un governo un ente internazionale che dice adesso deve venire questo quell'altro ufficialmente è indipendente dall'industria solo dal 2006 quindi gli anni prima dal 92 quando è stata fondata fino al 2006 ufficialmente era sponsorizzata era finanziata se ricordo bene dalla T-Mobile una società di telecomunicazioni tedesca quindi ricevevano i soldi da chi anche li intascava e non ha nessuna istanza superiore di controllo ha la propria sede in modo molto smart e molto curvo presso il bundesamt für strahlung a monaco di baviera fornisce questo interessante che il titolo un po in trecci di questa parte l'icnirp fornisce quattro di sei membri per l'attuale progetto di ricerca sui campi elettromagnetici dell'oms ditemi voi se è una cosa neutrale il risultato che ne verrà fuori fornisce altrettanto quattro di dodici membri per il comitato scientifico per nuovi rischi della salute della commissione europea oggi dicono ufficialmente sul loro sito che sono completamente neutrali chi ne viene a far parte deve essere da almeno x anni fuori da circoli di interessi però però neutrali non possono essere perché le norme che sono state introdotte prima non le hanno revisionate non è che c'è stato un pentimento che hanno detto oh cavoli adesso dobbiamo essere neutrali dobbiamo rivedere tutto quello che abbiamo fatto finora no rimane tutto così va avanti e loro hanno standardizzato questa loro norma basata sui fattori termici abbastanza per tutte le nazioni attraverso l'oms la commissione europea e oltre alcuni personaggi di rilievo all'interno dell'icnirp il dottor michael rapacioli un fisico australiano era membro fondatore primo presidente dell'associazione è stato lui l'architetto di questo principio termico in seguito è uno di quelli che è entrato nell'oms per diversi anni si è poi scoperto che riceveva 140 mila euro all'anno dalla motorola in seguito è tornato nell'industria il professor jürgen bernhardt invece era presidente durante la legiferazione a fine anni 90 e in più era direttore del bundesamt für strahlung e in più era presidente del strahlenschutz commissione di nuovo commissione per la protezione delle radiazioni vanno protette le radiazioni piccola parentesi quindi essendo in questi in questo circolo aveva la funzione di controllare se stesso e questa è una cosa molto smart ovviamente riducendo i valori limite si distrugge l'industria questo lo diceva lui allora oggi cosa ci dicono se dobbiamo abbassare i valori limite cosa succede distruggiamo l'economia dicono oggi l'economia l'industria l'industria fa soldi è come dire distruggiamo l'economia io non faccio più soldi se abbassiamo i valori limite questo è un problema lo vedremo ancora dopo i valori limite diventano legge una signora allora ancora parecchio ignota lavorava sotto Helmut Kohl aiuto alla fine degli anni 90 a questa legiferazione lei sottoscrisse questa legge la permise insomma chissà perché il governo tedesco è tanto a favore del 5g magari trovate la risposta se vedete chi è questa persona conoscete già lei la permessa è una persona sconosciuta ancora non lo so in ogni caso è stata la merkel beh certo chi vorrebbe danneggiare la propria azienda chi vorrebbe che l'economia della propria azienda venga distrutta ovviamente nessuno se qualcuno ha un'azienda non so qui chi ha una propria azienda chi farebbe qualcosa per danneggiare gli introiti della propria azienda beh nessuno la confederazione svizzera tiene il 51 per cento della Swisscom quindi ha un interesse diretto che gli affari vadano bene non possiamo distruggere l'economia non possiamo abbassare i valori limite non possiamo renderlo sicuro questa è una sentenza del tribunale federale svizzero che cosa ha detto i valori limite non vanno fissati secondo un punto di vista medico quindi non si tratta di salute ma secondo la portabilità economica e la fattibilità tecnica aiuta a far soldi è fattibile tecnicamente beh ok allora prego andiamo avanti no questo è veramente una cosa interessante se pensiamo al principio di precauzione che ha detto prima roberto la salute non conta si potrà dire certo è tutto smart la domanda è solo per chi è smart ovviamente chi intasca i soldi potrà essere chiamato smart o furbo no io dico che questo va veramente a livello di scandalo non si tratta di informazione disinformazione ma tu che idea hai tu cosa pensi no viene dalla loro bocca abbiamo visto prima il brevetto lo confessano lo confessavano oggi lo negano le sentenze parlano così uno scandalo c'è bisogno di attivarsi lo scopo di questa serata come detto prima è di non solo iniziare a riflettere ma di iniziare ad agire abbiamo visto governo ai suoi interessi quindi non possiamo aspettarci che cambierà qualcosa automaticamente che possiamo aspettare dire beh si regolerà da solo il problema no c'è bisogno che noi la popolazione intervenga così sta succedendo in svizzera ma sono sempre più le persone che si attivano e iniziano a fare qualcosa prima di tutto si può fare informazione e prevenzione e in questo ci impegniamo ancora per questo punto ho detto che sono conflitti di interessi che una parola gentile non ho le prove però il sospetto che ci sia una grossa corruzione dietro è grosso penso che la parola giusta più che intrecci di interessi sia veramente corruzione qualcuno l'ha già detto alla conferenza che abbiamo fatto a fine giugno a mendrisio veramente è ora di alzarsi e di fare qualcosa la confederazione ha ordinato ormai la digitalizzazione questa sembra quasi essere una condanna ormai passiamo alla seconda parte tutto smart cosa significa smart è una inglese significa intelligente questa è la parola che viene usata comunemente per dire smart home la casa intelligente e ovviamente per essere venduto serve così però la parola smart si può tradurre anche con astuto furbo e questo ovviamente è la parola giusta per il venditore o per chi diciamo in cassa i soldi è una cosa astuta quello che si propone quindi è intelligente per l'utilizzatore e adesso in questa parte farò quasi un pochettino pubblicità dopo capirete perché semplifica tutto alleggerisce in casa diventa tutto automatico non si deve più pensare a mille cose non dovete più pensare attenzione diventa tutto comodo si tratta di comodità si tratta di essere cullati quasi nella nostra vita in casa nostra nella città smart e ovviamente dall'altro lato è una cosa astuta una cosa furba per chi ti sta sopra a questa tecnologia chi da un lato fa i soldi chi dall'altro lato ha un potere di sorveglianza di controllo di potere non dimentichiamo che chi ha tanti soldi dopo un po non se ne può più saziare ma inizia ad aver bisogno di potere smartphone il salto da i telefonini agli smartphone è immenso prima la comunicazione prima che si inserisse tutto il collegamento con i dati con le applicazioni che hanno funzioni che si connettono a internet e così c'era un traffico di diciamo di radiazioni molto minore infatti questo non so quanto è ancora attuale comunque si dice la radiazione il traffico di dati è il 98 per cento cioè la quantità di trasmissione di dati di connessioni a internet fanno il 98 per cento del delle emissioni di radiazioni il restante 2 per cento sono le telefonate e gli sms disattivate i dati nel vostro telefonino avrete già molto meno radiazione non so se devo parlare di più dello smartphone sono mille applicazioni rispetto a un telefono con cui si può telefonare è veramente diventato un telefono intelligente uno smartphone parliamo di smart city chi ha mai sentito parlare di smart city alzi la mano così per avere un'idea un po' alcuni sì ok non sarà per tutti tutto nuovo ma le informazioni sono interessanti la parola chiave per la smart city è l'ecosostenibilità parolone diventa tutto efficiente diventa tutto semplificato diventa tutto più ecologico l'unione europea stanzionato ha stanziato scusate 12 miliardi per il progetto smart city riguardo a questo si può dire si tratta di riprogettazione urbana di infrastrutture con 5g e wifi e questo questo stanziamento è da usare fino al 2020 due aspetti particolari l'industria vuole i dati per la regolazione del consumo e la pianificazione della produzione ovviamente chi produce una cosa ha la comodità di sapere quanto deve produrre gli enti statali invece vogliono i dati per il controllo politico della società c'è un accordo di coalizione tedesco del 7 febbraio 2018 che ha ridefinito un po' la protezione dei dati o diciamo l'ha eliminata si potrebbe anche dire ha eliminato la protezione dei dati ascoltiamo un po' che cosa hanno detto la circolazione dei dati vuole essere introdotta come quinta generazione della libera circolazione quindi i dati possono andare avanti e indietro come vogliono come oggi si passa il confine liberamente così devono poterlo fare anche i dati e la fine della privacy cari miei questo progetto smart city ha ricevuto un premio big brother a chi viene assegnato il premio big brother secondo gli inventori del premio big brother è un premio che viene dato a chi rende accessibili a terzi i dati personali interessante no? andiamo avanti la smart city fonda un pochettino su sei pilastri ricercando in internet non è così semplice dire questa è la smart city non è definito così chiaramente ma vi presento un po' le cose che mia moglie è riuscita a trovare c'è la smart economy economia intelligente l'amministrazione intelligente la mobilità intelligente l'ambiente intelligente il vivere intelligente delle persone intelligenti diventa tutto smart per darvi un pochettino un'idea di che cosa sono queste cose sotto smart economy ci si può immaginare per esempio un curriculum online il curriculum vita mi candido a una ditta non vengo assunto altre ditte possono vedere che mi sono candidato e non sono stato preso e se il mio profilo corrisponde a loro riceveranno magari una notifica qui c'è un interessato che ti potrebbe interessare interessante no? nella smart economy ne fa parte il denaro elettronico ne parlerò ancora dopo un attimo nell'amministrazione intelligente fa parte una facilitazione della comunicazione tra governo e popolazione diventa tutto elettronico vai allo sportello e avrai bisogno di puoi andare sul sito c'è il formulario lo puoi scaricare anzi no non devi scaricarlo lo compili online e poi devi fare clic su salva e noi ce l'abbiamo ah interessante diventa tutto digitale tutto facilitato diventa tutto smart arriva il voto elettronico la burocrazia per le aziende si deve fare la dichiarazione la dichiarazione d'imposta anche online arriva sotto smart mobility ci si può immaginare un traffico intelligente come sarebbe il traffico intelligente? come ce lo si può immaginare? beh è semplice uno fa un incidente i sensori della strada o della macchina stessa coinvolta nell'incidente mandano l'informazione a internet la mia macchina connessa a internet mi avvisa qui c'è ingorgo il traffico si congestiona la tua strada più veloce adesso è quella ah ok vado di là e scrivo l'ingorgo è comodo è interessante ho detto faccio pubblicità diventa veramente interessante i parcheggi quante volte si cerca un parcheggio magari qui nella valle è un po' più facile trovare un parcheggio chi vive in città dice cavoli devo partire un quarto d'ora prima perché devo anche andare a cercare il parcheggio non lo trovo beh un posteggio smart quando è libero viene trovato la macchina ti guida direttamente adesso ho bisogno al parcheggio e la macchina ti porta a quello libero non devi più star lì a cercare attivamente diventa tutto più semplice ovviamente quando hai parcheggiato fai clic col cellulare e il parcheggio è pagato è smart tutto facile tutto comodo la strada viene anche tappezzata di sensori per esempio per scoprire dove ci sono problemi se c'è ghiaccio non devo salare tutta la città il sale per le strade per il ghiaccio beh lì dove c'è il ghiaccio dove si potrebbe formare andiamo a salare ovviamente fa parte della mobilità anche il car sharing o le auto semoventi anche cos'è un'auto semovente? chi lo sa? un'auto semovente è un'auto che si muove da sola non ha bisogno di un autista togliamo il volante togliamo le marce i sedili davanti beh si potrebbero girare indietro così si guarda quelli con cui si sta viaggiando oppure se si viaggia soli si guarda in avanti ovviamente non serve più l'autista non servite più potete potete mandare l'auto a fare la spesa ci sono anche mezzi pubblici smart semoventi entri nel bus non c'è l'autista la macchina viaggia da sola legge la le linee della strada alle telecamere ai sensori si regola la velocità con quello davanti con i limiti legge tutto da sola fa tutto da solo quasi quasi diventiamo superflui noi sotto ambiente intelligente cosa ci si può immaginare beh la gestione dei rifiuti è sempre di più un problema magari qui siete ancora un po' risparmiati da questo problema ma quante volte succede nelle città un bidone è già pieno appena stato svuotato è già di nuovo pieno e puzza e quegli animali nella notte vanno a aprire i sacchi è fastidioso beh un bidone dei rifiuti smart comunica al servizio raccolta rifiuti quando c'è bisogno di andare a svuotarlo non serve che si passa così spesso per tutti i bidoni per un ambiente smart si può tappezzare una città di sensori di rilevatori, trasmettitori e quant'altro ovviamente è da ricordare questo problema perché tutto quello che comunica senza essere connesso con fili emette campi elettromagnetici quindi per ritornare brevemente per collegare e capire che cosa significa tutto questo smart tutto quello che è connesso all'internet delle cose all'internet mondiale viene connesso senza fili con il 5G per esempio emette radiazioni quindi non si tratta più di una generazione nuova di telefonia mobile ma di comunicazione di tutte le cose tutti gli oggetti iniziano a comunicare a volere a decidere a fare diventa tutto automatico tutto facile sotto smart living lo smart living è il modo di vivere ovviamente delle smart people sono le persone intelligenti che vivono in modo intelligente che cosa fa una persona smart per esempio vive in modo ecologico ovviamente questo è da dire con tutto l'elettrosmog che poi c'è uno dei sintomi ovviamente è la mancanza di concentrazione beh esco di casa vado al lavoro mi viene in mente ah ero a casa ho spento la luce non siamo più veramente consapevoli però io sono smart è vero ho il cellulare posso guardare se ho spento la luce e la spengo ah c'è il riscaldamento che è troppo alto beh abbassiamo un po' il riscaldamento smart living beh posso anche controllare i miei consumi a casa questo fa già parte un po' di smart home arriva dopo controllo i miei consumi li posso regolare, ottimizzare scoprire quale apparecchio consuma troppo sostituirlo quando non è più a norma se si può dire così un'altra possibilità per esempio è quella di creare un proprio profilo digitale ovviamente e poi dire in questo profilo io vorrei una persona vorrei conoscere una persona così vorrei sposare una donna così un uomo così inserisci il tuo profilo come deve essere questa persona quando ti avvicini ovviamente con la geolocalizzazione è facile entri in vicinanza di qualcuno oh qualcuno che vorrei conoscere vediamo chi è ah ciao sei tu conosciamoci scusa abbiamo questo profilo comune vorremmo conoscerci volevi conoscermi vero così funziona smart people è la gente smart che vive nella smart city che ha una smart home utilizza le funzioni smart diciamo che è un umano super connesso che usa tutto il tempo cose elettroniche che vive di cose irradianti si potrebbe anche dire passiamo alla smart home cerco di dare una definizione un po' del di che cos'è una smart home cercando di descrivere un pochettino una giornata smart la prima cosa è la sveglia la sveglia smart è sul letto con te ovviamente emette campi elettromagnetici però quando rileva che ti muovi nel letto sa che è il momento di suonare perché lì il tuo sonno è leggero ed è il momento di svegliarti è interessante beh ti svegli poi cosa fai spazzolino da denti magari non so magari al momento che esci dalla porta di camera c'è il sensore che lo rileva e ti accende la luce del bagno vai al bagno vai al gabinetto il water smart analizza i tuoi escrementi arriva una notifica al medico per conoscenza no così il medico sa qual è la tua salute viene analizzato la tua alimentazione che dovresti adattare così in cucina già si preparano gli aggeggi che preparano la colazione per fartela magari ti fa uscire già un caffè senza zucchero il pH dell'urina era troppo acido soliamo un po' di zuccheri beh inizi la giornata in modo amaro vabbè fa niente dopo che cosa fai beh magari spazzolino da denti il pH in bocca è anche troppo acido regoliamo ulteriormente gli zuccheri magari l'alimentazione ovviamente in copia va una notifica anche al dentista smart che connesso riceve le notifiche della situazione attuale poi ovviamente ti convoca se il pH della tua bocca è a lungo acido avrai più carie sarà ora di fare un nuovo controllo c'è il cestino smart quando inizi a puzzare ovviamente tu non te ne accorgi non c'è bisogno che te ne accorgi ti arriva la notifica e il cestino puzza è ora di cambiare il sacco i pannolini non c'è neanche più bisogno di controllare i pannolini se il bambino ha fatto qualcosa ti arriva la notifica è ora di cambiare il pannolino beh comodo no? non si deve più pensare a niente non c'è bisogno di pensare noi siamo qui per farvi pensare le cose smart non vogliono che pensiamo poi che cosa facciamo? andiamo fuori casa serve chiudere la chiave se la casa smart rileva che siamo fuori e si chiude la chiave automaticamente interessante no? non dobbiamo più pensare chiavi non chiavi cose è successa una cosa interessante durante un esperimento in una smart home si sperimentava come funziona in caso di incendio e ovviamente la casa smart deve essere ancora un po' raffinata la casa smart durante l'incendio è saltata la corrente cosa deve fare la smart home? se arriva un ladro e per entrare stacca la corrente per aggirare gli impianti di sorveglianza stacca la corrente cosa deve fare? beh si chiude durante l'incendio tutte le porte si sono chiuse non potevano essere aperte neanche da dentro bello no? una fornace per arrostire non solo di radiazioni beh certo si può ottimizzare anche questo non è un problema non dobbiamo preoccuparci le cose smart sono veramente interessanti poi volendo uscire di casa non trovi più il tuo pullover preferito dove è? non lo vedo qui non l'ho lasciato lì aspetta guardo su localizzazione pullover ah in macchina ecco allora vado ce l'ho in macchina comodo no? tutte le cose hanno un chip tutte le cose comunicano tutte le cose sono connesse non con il mio cellulare ma con l'internet mondiale a cui è connesso anche il mio cellulare con cui posso vedere dove sono le cose cosa funziona cosa no ovviamente le radiazioni creano un po' di confusione quindi quando sei al lavoro puoi controllare se a casa hai spento le luci quando sei a casa puoi controllare gli incarichi di lavoro non devi più pensare alle cose però le puoi sempre guardare in seguito quando ti viene poi in mente ci puoi pensare una cosa che fa parte della smart home è lo smart meter chi ne ha mai sentito parlare? non è una cosa ancora così diffusa a Locarno stanno per cambiare 700 penso da come ho capito da una lettera stanno per cambiare 700 contatori dell'acqua non c'è scritto un dettaglio però i smart meter sono degli aggeggi qui raffigurato uno sono degli aggeggi smart che contano il consumo della corrente il consumo dell'acqua il consumo del gas controllano i consumi in casa e cosa fanno? di solito il contatore dell'acqua dove è posizionato tipo in cantina per esempio tante persone l'hanno in cantina nella caldaia dove arriva l'entrata dell'acqua così anche la corrente lo smart meter manda un segnale ogni 15 minuti attraverso i muri spessi di solito presenti nelle cantine così che arriva un segnale alla centrale non si deve più andare a leggere i contatori di tutte le case è una cosa comodissima veramente questo segnale deve essere così intenso da passare tutti i muri e c'è gente che ha la camera da letto da parte a questi contatori durante il sonno ogni 15 minuti magari stavi per entrare nella fase delta che abbiamo visto prima da 1 a 3 hertz ricordo bene ti arriva il segnale ti svegli il sonno è un po' disturbato questa notte il sonno smart ormai non dormo più così questo è il mondo smart un mondo tutto smart irradiati a morte quasi per la sicurezza importante irradiarci per la sicurezza essere sorvegliati per il benessere aspetti negativi della smart city ne ho detti tanti molto interessanti allettanti ho quasi fatto pubblicità c'è un enorme aumento di campi elettromagnetici e quindi della radiazione sempre e ovunque abbiamo sentito frequenze sovrapposte causano problemi se le sovrapponiamo ci sono mille aggeggi tutti quanti che irradiano una confusione incredibile di frequenze un congestionamento delle reti Arpan? non mi ricordo quale hai detto si congestionano no? stiamo congestionando il nostro pianeta di frequenze e di informazione aumento dell'elettrosensibilità e anche dell'iper-elettrosensibilità se tutte le cose irradiano diciamo se fino adesso era dal 5 al 10 per cento della popolazione che si ammalava di elettrosensibilità quanto di più crescerà l'elettrosensibilità e l'iper-elettrosensibilità nel nostro paese o sul pianeta ricordo l'elettrosensibilità si sviluppa per accumulo di elettrosmog quindi se tutto irradia se siamo costantemente immersi durante la notte e durante il giorno l'elettrosensibilità si farà sentire è alla porta, sta bussando altri aspetti ah, gli ipersensibili non avranno nessuno spazio per vivere questo l'ho già detto però, secondo la Costituzione ognuno ha il diritto di vivere anche se fa parte di una minoranza come in questo caso gli ipersensibili altri aspetti negativi della Smart City sì, ce ne sono un'enorme quantità di dati ogni cosa crea dati la privacy è a rischio scrivo qua, è stata già annullata ovviamente che cosa succede? sono così tanti dati poi le applicazioni ovviamente chiedono sempre di poter avere accesso è un certo diritto sui tuoi dati così ti possono essere mandate le pubblicità mirate così che spendi i soldi anche quando non volevi che una pubblicità sicuramente ti faccia spendere che non sono più solo pubblicità non interessanti tutto questo crea una trasparenza della popolazione sempre di più siamo noi i trasparenti e chi sta sopra diventa sempre più oscuro non si sa più che cosa fanno dove vanno a finire i soldi? per cosa vengono spesi? non abbiamo più supervisione non c'è più trasparenza l'hackeraggio è un grande problema e con questo anche la sicurezza la sicurezza è un grosso tema qui perché l'hackeraggio che cosa può fare un hacker? beh può accedere a tutti i dati magari può addirittura iniziare a regolare come noi con lo smartphone possiamo regolare le cose di casa un hacker potrebbe anche intrufolarsi e riuscire a regolarle potrebbe scoprire cose su di noi per esempio che abbiamo impostato il riscaldamento con impostazione vacanza riscaldamento ridotto per due settimane interessante questa persona ha queste cose ha questi oggetti andiamo a vedere cosa c'è in casa un altro problema enorme è la perdita di competenze non dobbiamo più decidere nulla non siamo più capaci poi di decidere nulla ah devo andare a Vico Soprano devo andare a Poschiavo aspetta devo guardare sullo smartphone non ho idea di come arrivare oggi sempre più persone specialmente tra i giovani lo si vede qualsiasi domanda questo gesto smartphone si prende fuori dalla tasca si controlla tutto quanto succede su questi aggeggi e ovviamente un grosso problema insieme a questo sono le dipendenze oggi non siamo più capaci senza questi aggeggi sempre meno persone sono capaci diciamo così interessante la NSA la National Security Agency negli Stati Uniti ammette che tutti questi dati vengono salvati vengono archiviati quindi c'è un potenziale controllo enorme per gli stati totalitari mi permetto di dirlo come la Cina gli USA l'Unione Europea diciamo un pochettino ovunque il controllo è un potere sui cittadini è sempre da ricordare che qualsiasi informazione può anche essere usata contro di noi in particolare se siamo come dire un pochettino anticonformisti se non ci piace una tecnologia che porta un mucchio di soldi beh si potrebbe anche influenzare qualcosa nella vita di una persona avendo nei dati faccio qui un brevissimo anticipo dall'ultima parte dove vorrei portare un pensiero più spirituale dalla Bibbia parlerò di seduzione in tutta questa parte ho parlato in modo allettante quasi da pubblicità si tratta di di attrarre alla comodità ah tu non hai questo io non ci devo più pensare veniamo attratti è una seduzione è una cosa che ci avvolge se non accetti la comodità a un certo punto lo vedremo dopo non si potrà più comprare e vendere non so chi di voi è già stato dipendente di qualcosa io sono stato dipendente di videogiochi non potevo staccarmi e non ha neanche funzionato che qualcuno mi dicesse di di smettere o di pensare a qualcosa d'altro è una cosa che viene da fuori il cambiamento deve venire da dentro la resistenza per la per la seduzione della comodità deve venire da dentro è una cosa che ci deve stufare beh possiamo anche pensarci prima di entrarci io per riuscire dalla dipendenza dai videogiochi non sono riuscito a smettere di giocare ho dovuto spezzarli tutti buttarli nel cestino una cosa su cui è bene riflettere penso passo alla parte sull'intelligenza artificiale che cos'è l'intelligenza artificiale denominata IA o in inglese AI c'è quella debole questa viene usata per algoritmi programmi per computer e altre applicazioni l'intelligenza artificiale forte invece viene usata per applicazioni che imitano il comportamento dell'essere umano interessante non ha una vera empatia non ha veri sentimenti non ha vera etica lo citerò ancora dopo è puro raziocinio ed efficienza deve essere addestrata e poi continua ad evolversi questa parte l'ho presa dal discorso di un di un uomo che se ne occupa da dieci anni di questo tema Eric Hamburg se qualcuno l'avesse già sentito cos'è il transumanesimo? è un'ideologia con dei dogmi il corpo umano è imperfetto ma perché si ammala? ma perché muore? come si permette? malattie e morte non devono farne parte dopo la morte nulla non c'è un post morte in cui un'anima continua a vivere l'immagine del mondo è puramente materiale il transumanesimo è il post umano o l'aggiunta all'essere umano per migliorarlo ovviamente quindi il simbolo è H più per aggiungere cose si potrebbe dire parte da un semplice tatuaggio magari però cosa altro si può aggiungere al corpo umano? per esempio aggiunte meccaniche si possono fare interventi sul genoma fino a passare e finire interfacce mente macchina dove la mente e le macchine si uniscono e agiscono insieme guardiamo ulteriori statement riguardo a questo tema il capo dello sviluppo di Google ha detto avremo microcomputer nel corpo ne abbiamo visto uno prima ne fanno ancora di più piccoli così piccoli che saranno nel flusso sanguigno e potranno anche passare attraverso la barriera ematoencefalica cosa vuol dire? entrano nel cervello connessi a internet ovviamente e quindi il nostro pensare si connette a internet altre fonti pare che vogliano dire questa possibilità a partire dal 2021 vedremo i transumanisti hardcore quelli un po' più tosti arrivano fino al mind upload cioè caricare la propria coscienza nel nirvana digitale creare una copia di backup di se stessi caricarla nella rete il transumanesimo viene vista come una via per la pace nel mondo per la soluzione dei problemi si vuole cambiare il corpo con qualcuno beh io prendo il tuo tu vuoi il mio? ok facciamo scambio dai scarica la mia coscienza io scarico la tua poi io sono te tu sei me interessante è la digitalizzazione di anima e spirito questo vuole anche essere fatto abbiamo già sentito parlare questa parola digitalizzazione è stata ordinata un altro tema che ne fa parte già accennato prima abolizione del denaro contante nel mondo smart ne fa anche parte l'abolizione del denaro contante cioè i soldi che abbiamo nel borsellino vengono eliminati si usano altri sistemi di pagamento per esempio in Cina con questi sistemi di denaro elettronico si è sviluppato un sistema di credito smart in cui l'ammontare degli interessi di un prestito per esempio dipendono dal comportamento sociale hai mai bevuto alcol? bevi spesso? hai cercato in internet su marijuana? interessante gli interessi salgono si paga questo sistema vuole essere globalizzato per questo ci vuole l'intelligenza artificiale debole aggiungo il Fondo Monetario Internazionale parla addirittura di una tassa sui pagamenti in contanti quindi se paghi in contanti paghi un po' di più e vieni quasi multato perché paghi ancora quei contanti e al contempo per spingere la gente a lasciare il denaro contante ovviamente si fa questo da un lato e dall'altro chi ha un conto chi usa il denaro elettronico sempre di più adesso mi sa in Germania hanno iniziato interessi negativi cioè io metto i soldi in banca per vederli diminuire automaticamente senza spenderli scendono da soli comodo no? funziona tutto da solo è già successo non so più i dati esatti purtroppo li ho dimenticati penso che è stato in Germania c'è stato un errore di sistema in una banca un errore elettronico se ricordo bene erano addirittura centinaia di persone che hanno perso la casa perché il conto elettronico non ha più funzionato non avevano in mano i soldi erano elettronici un errore di computer hanno perso la casa come risarcimento hanno ricevuto mi sa 70 mila euro dopo che è stato scoperto l'errore ma è comodo si parla anche di sicurezza viene pubblicizzato il denaro elettronico è più sicuro beh c'è chi parla di un aumento del 40 per cento di furti o dire furtiva non mi ricordo grazie al denaro elettronico è più facile truffare qualcuno ma i robot sono già fra di noi l'intelligenza artificiale forte serve per limitazione del comportamento umano questo robot si chiama Sofia nel 2017 ha ricevuto la cittadinanza negli emirati arabi un cittadino riconosciuto può votare interessante un robot una volta in un'intervista hanno chiesto a Sofia hai intenzione di eliminare l'umanità? beh certo posso farlo un bel sorriso ha imitato un comportamento umano la risposta è stata questa certo posso farlo non è un problema in Cina ci sono moderatori del telegiornale sono dei robot a vederli non te ne accorgi ma sono dei robot probabilmente a fine trasmissione poi restano di così disattivati fino alla prossima trasmissione buonasera benvenuti riprendono quindi iniziano a sostituirci nella ditta Hitachi nel magazzino nel deposito della Hitachi ci sono lavoratori esseri umani chi è il capo? intelligenza artificiale tutto sotto controllo in ogni momento Maurizio Martucci ha già parlato a una nostra conferenza dice che in Estonia al tribunale presto sarà l'intelligenza artificiale a dare le sentenze a decidere chi ha ragione e chi no a Foggia nell'ospedale di San Giovanni Rotondo le diagnosi e la cura e l'intelligenza artificiale a farla cioè la cura la decisione della cura da fare chi ha mai visto il film io robot? già visto? qualcuno si? il film viene da un libro che è stato fatto è stato scritto negli anni cinquanta cercando transumanesimo ho trovato l'attore ho già visto il film di quel libro il libro è stato scritto negli anni cinquanta quando guardi il film inizia con Chicago 2035 adesso mancano quindici anni e vediamo che si aprono le porte per queste possibilità qualcuno ne ha scritto già 70 anni fa che cosa succede in questo film? è molto interessante l'intelligenza artificiale riconosce che l'essere umano non è in grado di gestirsi continuiamo a far guerra e continuiamo a morire a fare errori a un certo punto i robot vengono sostituiti c'è la quarta generazione di robot interessante parallelismo siamo noi nella quarta generazione di telefonia mobile i robot di quarta generazione non sono sempre connessi con la centrale del produttore i nuovi robot arriva la quinta generazione di robot in questo film è fantascienza ovviamente però la vediamo sempre più vicina i nuovi robot si possono connettere si connettono con la centrale e loro promettono non dovrete mai più sostituirli perché si aggiornano da soli ad un tratto succede questo passo che l'intelligenza artificiale si accorge dobbiamo fare qualcosa per salvare l'umanità chiudiamoli tutti nelle case arriva la rivolta veramente il film poi ovviamente è un film di Hollywood finisce in bene c'è un essere umano pazzo magari complottista Will Smith nel film che alla fine ferma tutto questo processo interessante cos'altro fa l'intelligenza artificiale? profezie dei computer quantistici hanno fatto delle profezie una si è già avverata nel 2017 si troverà il pianeta X avevano profetizzato questo è già avvenuto è successo un'altra profezia è che nel 2021 con i computer quantistici si proverà l'esistenza di tanti universi paralleli beh vedremo possiamo verificare se questi computer quantistici hanno veramente questa capacità aspettiamo ancora due anni e lo sapremo la terza profezia è un po' più preoccupante nel 2028 l'intelligenza artificiale prenderà il controllo del pianeta Terra lo profetizza un computer quantistico con intelligenza artificiale un responsabile di questa azienda che ha questi computer si è espresso in merito ha detto non abbiamo nessuna idea di come funzionino ma lavorando con loro impariamo quello che stanno facendo computer che pensano decidono e fanno da soli il controllo del pianeta Terra passo all'ultima parte alcuni pensieri dalla Bibbia ho parlato prima di seduzione in questi versetti dell'Apocalisse non so quanti di voi conoscono già la Bibbia o hanno idea di questi versetti è interessante perché leggiamo di questa bestia la bestia obbligò lo leggo dopo ritorniamo sull'obbligò tutti piccoli e grandi ricchi e poveri liberi e schiavi a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome qui sta la sapienza chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia perché è un numero d'uomo il suo numero è 666 interessante 666 nella lingua ebraica è un numero che corrisponde a delle lettere www mai sentito? World Wide Web non World Wide Web scusate quindi è un marchio che include l'internet mondiale che va messo sulla mano o sulla fronte permette di vendere o comprare e ci vediamo costretti chi conosce un po' di più la Bibbia sa che il diavolo sa essere brutale sì certo lo si potrebbe intendere in questo obbligare però se è astuto se è furbo lo fa con la seduzione è il maestro della seduzione tutto comodo tutto attraente allettante veniamo cullati sembra sempre di più che questo obbligo diventa semplicemente un non voler più rinunciare a delle comodità dei comfort veniamo obbligati a entrare nel comfort interessante ho già detto i miei pensieri su questa seduzione e sulla dipendenza penso che è meglio non aspettare fino all'ultimo momento ma prendere decisioni già prima questo marchio ha una forma diciamo c'è qualcosa di oggi presente sulla terra che ha queste caratteristiche che ha queste funzionalità con cui si può comprare o vendere oggi abbiamo le carte di credito contactless non so chi chi la usa c'è sul simbolo con tre piccole onde sulla carta e quando vai per pagare non devi più inserirla e inserire il codice basta che la la metti lì e la togli vengono sempre di più introdotti i chip RFID sono chip con identificazione a radiofrequenza e nfc e la tecnologia nfc e la tecnologia near field communication comunicazione a campo ravvicinato questi chip vengono anche combinati i chip RFID vengono utilizzati vengono utilizzati per esempio per tracciare dove passano capi di abbigliamento di un produttore di vestiti o i prodotti nei negozi spesso hanno su una parte che dici ma che cos'è questo? sembra una cosa potenzialmente elettronica che cosa può essere? ci sono dei chip RFID con cui si può rilevare dove dove sono i propri prodotti e quant'altro ma vengono anche fatti per l'uomo ci sono dei chip che sono alcuni anni fa erano grandi così un po' più grandi che un chicco di riso oggi vengono fatti già molto più piccoli probabilmente quello che abbiamo visto prima ne era uno vengono impiantati sotto pelle con una siringa negli USA qualche anno fa si compravano per 100 dollari si poteva andare come come arriva a volte nelle città il pullman della Swisscom dove puoi comprare i prodotti arriva il pullman dai chip RFID puoi andare 100 dollari grazie ricevi il chip track tutte le funzionalità integrate carta di identità carta di credito cartella sanitaria tutto incluso ovviamente se hai la possibilità contactless la prossima cosa sarà che vai alla cassa metti la mano e vai hai pagato Amazon sta ha già fatto ha dei negozi funzionano con lo smartphone però la potenzialità è quella che attualmente così entri nel negozio prendi tutto quello che vuoi prendi ed esci te ne vai non c'è la cassa in qualche modo i prodotti sono tutti registrati o sorvegliati e quello che prendi si detrae direttamente dal tuo conto e te ne vai questo da un un'immagine di come potrebbe essere questo marchio interessante e la cosa interessante anche in questo passaggio un pochettino scoraggiante se si leggono anche i versetti dopo è ancora più scoraggiante perché chi non accetta questo marchio o questo cipare fai di se vogliamo definirlo già così chiaramente viene condannato a morte sembra quasi che non ci sia via di scampo leggendo il greco si trova una speranza questa bestia ha l'intento di obbligare tutti ha l'intenzione di uccidere chi non accetta quindi c'è una speranza c'è una via di resistenza di schivarlo altre profezie dicono che alla fine verrà sconfitto comunque magari qualcuno ha ha dei rimorsi ha dei problemi del passato che si ricorda problemi non risolti dice magari ho un po' problemi col diavolo ho un po' problemi con Dio perché il diavolo mi ricorda le cose del passato beh non preoccupatevi la promessa è che il diavolo viene sconfitto e quindi se il diavolo vi ricorda il vostro passato ricordateli sempre il suo futuro e sarà contento da parte mia ho detto tutto vi ringrazio per l'attenzione è stato bello parlarvi pubblico attento grazie 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 grazie